. Uomini e donne, Soleil sorge, perché ha incontrato Marco Cartasegna?. Soleil sorge e Marco Cartasegna di uomini e donne insieme? La smentita. A quanto pare non c'è davvero pace per Soleil sorge. Difatti, dopo essere stata sorpresa giorni fa insieme a Marco Cartasegna, è scoppiato un vero e proprio caos sui social. . Motivo per cui, la bella ex corteggiatrice di uomini e donne, stanca di leggere critiche, è sbottata furiosamente. . 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 Chissà, intanto pare davvero non ci sia un solo giorno in cui non crei scompiglio sulla rete. . E dopo essere stata criticata dal fratello di Luca, ha dovuto leggere tante altre illazioni, che l'hanno fatta molto indispettire. E chissà se questa storia verrà rivelata al suo fidanzato lunedì prossimo nella quarta puntata del Grande Fratello Vip. . .